Nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale è deceduto Claudio Franco, 71 anni, pensionato. Abitava in frazione Val Molina, San Damiano d'Asti ed era conosciuto in paese come Mario il Meccanico per la sua lunga attività di riparatore di macchine agricole. Secondo le prime ricostruzioni il pensionato alla guida di un furgone stava viaggiando tra Pollenzo e Cherasco quando all'uscita da una rotonda avrebbe scartato alcune autovetture in coda invadendo la carreggiata opposta. In quel momento transitava un tir condotto da un 22enne di Bergamo che non avrebbe potuto evitare lo scontro. Il Franco sarebbe deceduto sul colpo mentre il camionista avrebbe riportato solo ferite. E Mauro Caliendo, sindaco di San Damiano d'Asti, ha preso possesso in questi giorni della presidenza del COGESA, il servizio socioassistenziale del nord astigiano. Il rinnovo del direttivo dell'ente in questi mesi è stato accompagnato da non poche polemiche e si è risolto con una lotta all'ultimo voto. Sentiamo. Una grande responsabilità e ringrazio tutti coloro che hanno dato fiducia al sindaco di San Damiano, al gruppo del sindaco di San Damiano per guidare il consiglio di amministrazione. E' davvero un impegno importante perché andiamo a servire tutti quegli utenti che sono un po' più deboli e questo dà grandi responsabilità. Però ritengo che il lavoro che verrà effettuato e la struttura che già opera con buoni profitti sul territorio, certamente nonostante le difficoltà economiche, permetterà un'ottimizzazione dei servizi. La prima azione che faremo è una necessità, un'esigenza che si fa davvero forte su tutti coloro che amministrano dei comuni, ovvero sia quello di avere un servizio di reperibilità che permetta in orario notturno o comunque in situazioni di particolare disagio di avere un riferimento, un assistente del Cogesa che possa dare indicazioni e risolvere i problemi. Quindi è un progetto che è già stato approfondito da parte del direttore Botto del Cogesa che permetterà nel giro di qualche settimana di avere sempre qualcuno che dia una risposta agli amministratori pubblici per la collocazione eventualmente di minori che vengono trovati e vogliono abbondare sul territorio o comunque altre situazioni di disagio, cosa che prima non c'era. Domani a Moncalvo si tiene la 373esima edizione della fiera regionale di sua maestà, il Bue Grasso. È prevista la mostra mercato, la sfilata dei buoi vincitori lungo le vie del centro cittadino e naturalmente la rassegna gastronomica con la carne di razza bovina piemontese. Vediamo. E' rimasta una nicchia quella del Bue ma questo serve a valorizzare tutto il territorio, tutta l'agricoltura monferrina, certamente il vino e la barbera in modo particolare che si sposa divinamente bene con il bollito e con le carni di razza piemontese che tutto l'anno nei nostri ristoranti viene servita in modo particolare in questa stagione con quella del Bue che è l'eccellenza massima della carne bovina piemontese. E quest'anno nell'ambito della 373esima edizione della fiera del Bue Grasso di Moncalvo ci sarà l'assegnazione di un premio importante, l'ambasciatore della buona alimentazione. Della buona alimentazione è vero e chi meglio in questo momento del professor Giorgio Calabrese verrà consegnato da parte della commissione fiera proprio a lui questo premio a riconoscimento del suo impegno verso la buona alimentazione nel mondo e in Italia. E con le notizie dall'Astigiano è tutto, grazie per averci seguito. La linea torna allo studio. Grazie a tutti.